Alla scoperta dei luoghi più suggestivi dell'Abruzzo e del Molise, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti enogastronomici, è la filosofia alla base della partnership tra l'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia in Abruzzo e in Molise e l'Istituto Alberghiero e Turistico Filippo De Cecco di Pescara. Un percorso condiviso che intende promuovere le bellezze dei nostri territori attraverso le sue eccellenze. La cosa interessante che viene ulteriormente evidenziata in questa occasione è l'intesa appunto tra noi, Associazione dei Borghi Abruzzo e Molise e l'Arberghiero di Cecco affinché i sindaci e quindi i territori che noi rappresentiamo avvino delle attività di formazione per i propri operatori e in più ci sarà questa collaborazione speciale per il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli che si terrà a settembre ad Abateggio e Caramanico ma che noi abbiamo invece voluto condividere con tutti i sindaci per fare una serie di eventi di avvicinamento insieme alla Regione abbiamo pensato appunto a ideare Festival tutto l'anno proprio perché abbiamo con Santo Stefano inaugurato una due giorni, il 2 e il 3 dicembre e che arriveremo fino a novembre dell'anno prossimo a Scanno che sarà l'ultimo appuntamento. Nel frattempo faremo il Festival delle tre giornate a settembre dove tutta l'Italia verrà a conoscere la nostra regione, i nostri territori e noi dobbiamo essere bravi, capaci, competenti e soprattutto adeguati a offrire un turismo di eccellenza che faccia parlare di noi ovunque per quello che veramente siamo in grado di fare. 29 tipicità per 29 borghi più belli di Abruzzo e Molise, un menù elaborato e realizzato dagli studenti e dai docenti dell'Istituto Alberghiero. Innanzitutto vogliamo formare dei professionisti della ristorazione, della ricezione alberghiera e del turismo che siano capaci di promuovere il nostro patrimonio culturale, il patrimonio culturale dei borghi che è fatto di arte, di storia, di tradizioni, di mestieri ma è fatto soprattutto di enogastronomia perché la cultura culinaria e la cultura enogastronomica ha un'importanza notevole nelle aspettative e nelle motivazioni dei viaggiatori, quindi rappresenta uno strumento di promozione turistica dei territori e quindi di valorizzazione dell'immagine e di qualità di questi territori.